ciao volevo parlare dei finali ma viene da rire a pensare di parlare dei finali con tutto quello che è stato scritto sui finali io dico volevo parlare dei finali che usavo io che uso io più che altro voglio parlare dei finali a nodi quando iniziato a pescare usavo finali molto corti perché avevo chiaramente difficoltà della di lancio pescavo in torrente con finali che andavano da due metri due venti più tip intorno ai due metri normalmente e tipo anche corti e quindi quando poi mi sono dovuto orientare provare a pescare nell'acqua più piatte quei finali disturbavano andavano bene ho provato ad allungare e sui consigli di allora parlo di 50 anni fa era difficile trovare delle delle riviste dei libri che spiegavano come si facevano i finali c'era i consigli del riz comunque i finali erano sempre fatti con tantissimi spezzoni si partiva dal 45 si arrivava al 14 nelle prime misure grosse 45 40 35 30 25 20 si andava giù di 5 in 5 e poi dal 20 arrivare al pretip di 2 18 16 14 e 12 come pretip oppure si finiva col 16 14 come pretip venivano tantissimi nodi e bisognava fare un lavorone per fare tutti quei nodi poi cercare di farli precisi guai a sgarrare di un millimetro poi dopo con con la sim quando ho iniziato andare a fare i corsi in sim mi hanno insegnato a fare dei finali invece che con tanti spezzoni con quattro spezzoni quindi c'era una certa potenza di una certa lunghezza poi il secondo pezzo un po più corto il terzo pezzo un po più corto e di conseguenza il quarto il finale che ho sempre usato fatto in quattro pezzi generico era 160 60 40 30 quindi 2 90 più il tip di lunghezza variabile a seconda della situazione sempre ricordiamoci che un finale perfetto per tutto non esiste perché chiaramente a seconda della pesca che faccio avrò bisogno di un finale è logico anche se pesco solo a secca avrò bisogno a seconda della situazione di un finale diverso la pesca è un'attività di situazione quindi anche durante il percorso su un fiume la situazione cambia completamente e cambiando la situazione sarebbe bene anche adattarsi adattare il finale comunque genericamente quando c'è un po più di spazio uso un finale che è circa 2 93 metri più il tip quando sono in una situazione dove c'è poco spazio sto un finale sto su un finale che viaggia sui 2 250 270 più il tip con i consigli di marino poi sono arrivato a provare e abbiamo provato il finale fatto in soli tre pezzi più il tip quindi tre sezioni e marino mi faceva notare che un un tip una parte di potenza molto molto lunga come si è quasi sempre fatto potenza molto lunga poi rastremazione corta e tip perdeva un po di forza invece se la parte era più corta di potenza era più rapida la più veloce velocità da trasmettere al pezzo successivo di conseguenza più velocità è un po' come se uno prendesse questo metro in mano se se piglio un pezzo molto lungo si piega facilmente non rimane dritto se accorcio rimane dritto quindi ha più più rigidità per trasmettere velocità quindi il il primo pezzo invece che farlo molto lungo l'abbiamo fatto un po più corto provando chiaramente dipende sempre dalla situazione dipende sempre dalla coda che hai dalla misura della coda ma anche dalla strematura della del tipe della coda più fine più lungo sappiamo benissimo che tante volte uno piglia una coda del tre e un'altra coda del tre e sono diverse una più leggera perché ci sono delle tolleranze magari ha la conicità finale più più allungata l'altra più corta quindi il finale dovrebbe essere adattato però in generale il finale in generale che utilizzo adesso è 110 cm di parte grande 45 48 50 quella misura lì parte grande 130 cm della parte di mezzo quindi più corto più corta la parte grande leggermente più corta più lunga la parte di mezzo 130 e poi 60 cm di pretip quando lo monto parto sempre dalla dalla parte piccola così vi faccio prima la gassa iniziale che faccio utilizzando uno spillo classica classica cassetta che si fa per per il pretip quindi un'asolina un'asolina il filo passa dietro a quello che ho in mano passa dietro così poi passa davanti facendo un'altra solina e in mezzo e in mezzo ai due quando è in mezzo ai due prendo uno spillo qualcosa di che mi aiuta di rigido faccio passare la seconda solina dentro la prima solina tengo il la parte del filo e tiro i due pezzi ok così amici e rifaccio che mi siano 1 2 3 passo dentro prendo tengo e tiro ok così e viene una piccola una piccola solina quindi come abbiamo detto cerco sempre di tagliare bene a raso con le forbicine o con tagliaunghie e poi come abbiamo detto primo pezzo il pretip 60 cm uso lasciare un attimino più lungo il pezzo 60 faccio 62 perché poi con il nodo qualcosa si mangia secondo pezzo 35 la parte più piccola il filo più piccolo lo faccio girare una volta in più sul nodo barilotto quindi questo è il più grosso 2 3 4 5 faccio passare in mezzo ai due fili l'altro 1 2 3 4 5 6 entro dalla parte opposta dove è passato precedentemente il filo più grosso ho i due i due fili tengo i due capi e tiro bagnandolo magari un po perché se si bagna viene meglio ok poi anche qui si taglia a raso 1 2 60 abbiamo detto 130 e poi l'ultimo pezzo quello grosso che non è questo ma è questo sempre si può discutere sui finali va bene non va bene no così non va bene io dico quello che per me funziona io mi trovo bene con questo tipo di finale qua veloce da fare tre soli tre soli nodi quattro con con la gassa del pretip comunque è sicuramente è sicuramente un finale veloce e lo trovo che si distende bene e non ho problemi a distenderlo e non ho problemi a modificare a curvarlo a farlo a farlo lavorare come anti anti dragaggio chiaramente anche lì si varia il tip secondo delle esigenze ricordiamoci sempre che tutto è giusto e tutto è sbagliato tutto è giusto e tutto è criticabile come nel lancio del resto tante parole tante ognuno dice la sua però questo è semplicemente una mia esperienza personale sul finale attività di situazione adattarsi alla situazione non esiste il finale perfetto esiste sapersi adattare anche con questo finale se mi trovo a dover ho il finale sul mulinello o quel finale lì mi trovo in un torrente più piccolo devo accorciare va bene la parte di mezzo che è quella più lunga la accorcio gli levo tanti centimetri quanto penso che sia necessario 20-30 centimetri agisco lo stesso sul pretip e sul tip io utilizzo questi finali ciao ciao volevo fare una piccola precisazione su quello in aggiunta a quel video sui finali che ho fatto chiaramente senza mai pretendere di di avere la ricetta ideale per il finale perché come abbiamo detto bisogna adattarsi alla situazione e i finali il finale che funziona sarà sempre quello che si adatta meglio a quella situazione tante situazioni diverse ci si adatta comunque generalmente genericamente abbiamo detto quelli che sono i finali che utilizzo maggiormente non ho precisato magari qualcuno che non lo sa è una cosa semplice come si fa l'anellino per poi mettere il tip si tiene il filo in mano si gira creando un anello il filo dietro al filo che teniamo in mano si passa davanti quindi si formano due anelli e si passa poi in mezzo dopo di che con un aiuto di un attrezzino se dobbiamo farlo col nylon e abbiamo degli anelli piccolini da controllare passiamo dentro prendiamo il nostro secondo anello per farlo passare dentro al primo e tiriamo per fare l'anellino che ci permetterà di congiungere il tip al nostro finale utilizzando un attrezzino per farlo che potrebbe essere uno spillo chiaramente col nylon o uno stuzzicadente riusciamo a fare degli anellini molto piccoli l'anellino deve essere piccolo ma non eccessivamente perché va benissimo lo stuzzicadente la dimensione della punta dello stuzzicadente perché sia facile infilare il tip in condizioni magari di scarsa luce se uno è costretto a cambiare il tip quando pesca pesca è in una condizione che vede poco per per non aver problemi a infilare l'anellino deve essere piccolo ma facile da da infilare poi altro nodo semplicissimo che viene fatto un po da tutti per collegare i vari fili di spezzone diverso e costruire il finale è il nodo a barilotto semplicissimo nodo a barilotto che viene fatto appoggiando i due fili uno sopra l'altro eseguendo facendo dei giri intorno con un filo intorno all'altro io normalmente sui fili piccoli faccio cinque giri e poi più cresce il filo diminuisco cioè parto da 5 per collegare il 22 al 35 e poi 4 per collegare il 35 al 45 e normalmente faccio un giro in più sul filo più fine rispetto al filo più grosso quindi se collego per dire un 22 a un 30 sul 22 faccio 6 giri sul 30 ne faccio 5 comunque ritorniamo a noi ho girato questo filo qua lo faccio passare in mezzo dove avevo unito i due fili giro l'altro e faccio passare in mezzo al contrario di dove ho fatto passare il precedente poi chiaramente se uso dei fili di nylon li bagno che così il nodo scorre meglio e ottengo un nodo che mi permette è di avere i due fili di diametro diverso solidamente vincolati tra di loro e sulla stessa linea era solo per precisare perché nell'altro video non avevo detto volevo dire ancora le misure dei finali una volta tempo addietro usavamo finali che avevano addirittura un mucchio di spezzoni una decina di spezzoni partendo dal 45 si arrivava al 14 con tutti i piccoli spezzi poi siamo passati a un finale grazie agli insegnamenti in sim di quattro pezzi che è 140 cm di 45 60 cm di 40 40 cm di 30 30 cm di 22 più il tipo per arrivare all'ultimo finale che utilizzo che mi è stato consigliato da marino per la la l'ha pensato insieme all'amico enrico salvatori salvatori e che ha parlato di un provato a eliminare ancora un pezzo e fare un finale a tre pezzi che va molto molto bene e le misure di questo finale sono 110 cm di 45 47 130 cm come abbiamo detto secondo pezzo più lungo di 35 e 60 cm di 22 sempre più tip sempre a seconda della situazione utilizzo un tip più o meno lungo e posso sempre come abbiamo detto nell'altro video variare le misure anche al momento e vabbè abbiamo parlato un po di finali e vi saluto e buon finale a tutti grazie